comunque raga per la settantesima volta vi ripeto che il discorso che ho fatto prima in diretta non era un discorso rivolto a qualcuno in particolare o cose del genere ma è quello che secondo me è e deve essere l'amore cioè gestire una relazione ok vi stavo parlando di come vedo io la cosa poi non era se poi voi volete vedere le cose come vi pare cioè associarle per forza a una persona e queste sono cose vostre ok io rispetto tutto però veramente non ce ne passiamo io stavo parlando del mio punto di vista non stavo parlando di qualcuno ok ci siamo ce la possiamo fare e raga mia madre ha fatto quel commento ma non riferendosi a chi voi pensate ma stava parlando più che altro delle mie vecchie storie d'amore che purtroppo cioè giustamente mi ha detto di trovare delle persone normali ok perché cioè ho pescato davvero male in passato nella mia vita giuro allora raga sto ancora finendo di fare la valigia non so assolutamente come la trasporterò a terni perché cioè pesa tipo tre volte me quindi sono abbastanza preoccupata per la situazione però va bene la trasporterò a forza di calci finirà così sicuro comunque raga prima di finire non vai prima allora ci ha messo un giorno e mezzo uh pure le ciotoline bene